Nino Boeti è il nuovo presidente del Consiglio regionale del Piemonte, eletto con 46 voti nella seduta del 10 aprile 2018. Sono contento naturalmente, peraltro l'elezione è stata garantita con il voto sia del consigliere di maggioranza che di opposizione, un voto quasi all'unanimità che indica un po' di rispetto, un po' di attenzione nei miei confronti ed indica il fatto che c'è un clima anche politico disteso all'interno del Consiglio regionale come è stato in questi quattro anni. Il Consiglio ha lavorato nel rispetto delle idee di ognuno ma rispettando anche le persone, non soltanto le idee e questo secondo me quando si verifica è un fatto non soltanto positivo ma che va sottolineato. Eletti anche i vicepresidenti Angela Motta per la maggioranza e Franco Graglia per la minoranza. Ringrazio tutti i colleghi per la fiducia e per questa nuova responsabilità. Spero di continuare soprattutto con la delega dei rapporti con l'Aula perché credo in questi anni di aver instaurato con il Consiglio, con tutti i colleghi, relazioni tali da poter garantire il rispetto dell'Aula e anche dei diritti di tutti i consiglieri. Quindi spero di continuare in questa direzione anche per quest'ultimo anno che rimane. Ci tengo a ringraziare i miei colleghi per la votazione, un risultato che va oltre le prospettive, mi fa piacere, mi considero una persona moderata quindi lavorerò nell'ufficio di presidenza con un grande orgoglio che è un grandissimo onore. Ho fatto una scelta di non cambiare nel Parlamento e devo dire che a maggior ragione oggi dico che è una scelta giusta perché ho deciso di rimanere sul territorio e di lavorare tra la mia gente. Il Consiglio ha effettuato inoltre la sostituzione di otto consiglieri regionali eletti in Parlamento nella scorsa tornata elettorale. Giuseppe Antonio Policaro subentra al posto di Diego Sozzani, Benito Sinatora al posto di Alessandro Benvenuto, Luca Cassiani al posto di Davide Gariglio, Andrea Tronzano al posto di Daniela Ruffino, Angelo Luca Bona al posto di Gilberto Pichetto Fratin, Luca Angelo Rossi al posto di Vittorio Berrutti, Andrea Flutero al posto di Claudia Porchietto, Celestina Olivetti al posto di Mauro Laus.